Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo, sino al 21 dicembre, i lavori di manutenzione restringono la carreggiata a corsi alterne dalle 9 alle 18, tra gli svincoli Sicignano degli Alburni e Padula, buon abitacolo in entrambi i sensi di marcia. Sul raccordo Salerno-Vellino, sino al 31 dicembre, attiva la riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite Solofra e Montoro Nord verso Salerno. Sulla statale 7.4 Domiziana, sino al 30 novembre, dalle 8 alle 16.30, si procede a carreggiata ridotta nel tratto compreso tra Castelvolturno e l'innesto con la tangenziale di Napoli, in entrambe le direzioni, in tratti saltuari. Sulla statale 18 Tirena Inferiore, sino alle 17 del 18 novembre, per lavori è chiuso il tratto compreso tra le località Sapri ed Acquafredda di Maratea, in entrambe le direzioni. Sulla statale 268 del Vesuvio, sino al 5 dicembre, è chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Somma Vesuviana-Cupa di Nola ed Ottaviano-Zona Industriale, in entrambe le direzioni. Redazione Muoversi in Campania, Marina d'Apicia.